Un saluto da Ficcanaso, oggi parliamo di conflitto di interesse. Perché? Un gruppo di ricercatori afferenti a società scientifica Fadoi, con Fiaso, cioè la federazione delle ASL, ed altri firmatari importanti, la società di ipertensione, la società di neurologia, ma tantissime altre società, microbiologi, oncologi, ha prodotto un position paper. È un documento che a dita indica la pericolosità, la problematicità del decreto 52, che istituisce una serie di nuovi vincoli sui ricercatori, i quali, se hanno un conflitto di interesse, non possono partecipare a una sperimentazione clinica. Il decreto 52 attua la legge Lorenzin, quella che ha riformato gli ordini dei medici, ma anche degli altri professionisti sanitari, e ha ridisposto l'ordinamento dei comitati etici, dicendo che ce ne sono al momento 100, 20 sono regionali, e poi ci sono quelli degli IRCS e dei grandi ospedali, ma devono scendere a 40. Ora, la legge Lorenzin dà anche all'AIFA dei poteri di sorveglianza sul conflitto di interesse, sia nei comitati etici, sia nelle sperimentazioni da parte dei medici, nei trial clinici. Questo cosa significa? Significa che il decreto 152, uscito lo scorso maggio, ha due vincoli molto forti per i ricercatori. Il primo è che il ricercatore non può avere cointeressenze né proprie né con suoi parenti, fino al secondo grado, secondo grado sono i cugini, i cognati, in case farmaceutiche, o con tutti i promotori della sperimentazione, ma soprattutto non può avere cointeressenze, sempre il ricercatore, con la casa farmaceutica, anche personali, non può essere mai stato coinvolto dalla casa farmaceutica o da chiunque altro, Ateneo, ospedale, promuova la sperimentazione. Questo è un vincolo ancora superiore, perché mentre esiste una normativa per i conflitti in chiaro sul tema dei parenti, delle parentele, non era mai stato detto prima, in maniera così esplicita, che chi avesse una fattura di un'industria farmaceutica, perché è stato relatore a un convegno su un tema di cui sa solo lui, magari in Italia, o comunque di cui è molto esperto, poi non potesse condurre, per conto di la stessa industria farmaceutica, che magari sta lavorando da tempo su quel farmaco, una sperimentazione scientifica forte, proprio su un medicinale, lui come luminare. Quindi significa che i principali luminari che abbiamo, sparsi per l'Italia, su determinate materie, che difficilmente saranno rimasti fuori da contatti con industrie, che gli hanno commissionato in passato delle lezioni a corsi, o che gli hanno sponsorizzato delle lezioni a corsi, difficilmente questi luminari potranno partecipare ai trial clinici su materie di cui sono perfettamente competenti. Ora, Fadoi, me ne sono occupato per Doctor News, Fiaso e le altre società scientifiche, soprattutto di materie dove la ricerca di ricerca se ne fa tanta, hanno chiesto che invece di vincoli così forti, che potrebbero rendere necessaria la sostituzione dell'esperto su una materia con altri esperti che poi non si trovano, si cerchi un qualcosa di più flessibile, soluzioni tipo dichiarazioni che descrivono la tipologia del conflitto di interesse da parte della personalità coinvolta e quindi una maggiore flessibilità che vada in linea con quanto avviene in altri paesi europei, dove non è che se uno è il solo conoscitore di una materia, per il semplice fatto di aver avuto relazioni con addirittura un istituto universitario, perché ci sono contemplati anche quelli, che promuove un trial, ne è fuori. Quindi diciamo che la normativa italiana al momento sul conflitto di interesse sembra aver imparato di più dalle preoccupazioni delle associazioni di consumatori che ogni volta che escono i dati dovuti al codice farmindustria sui ricercatori e i medici che hanno preso sponsorizzazioni, che hanno preso fatture da industrie farmaceutiche, dice che queste cointeressenze vanno messe ai 4,20, creando un po' di imbarazzo, perché in realtà si tratta di tutte cose lecite, ecco, sembra aver preso questo decresto più da questa roba qui, da queste indicazioni molto rigide, che dalla normativa europea, perché in molti stati ci sono diciamo normative molto più flessibili, i conflitti di interesse vanno denunciati e stop, poi è chiaro che c'è un forte controllo sulla qualità della ricerca. Addirittura, sempre lo stesso decreto 52, dice che si può arrivare alla soppressione del comitato etico quando un componente del comitato etico abbia in qualche modo avuto dei legami con il promotore della ricerca su cui sta dando un giudizio di eticità. Allora, il problema è vero, però è anche vero che, secondo almeno i firmatari del documento, non deve porre le ganasce alla ricerca italiana. Io propongo questa notizia come l'ho maneggiata adegendo il position paper e dico che effettivamente c'è un regolamento europeo che deve uscire e deve risolvere tutte queste situazioni, queste ed altre situazioni, non solo il conflitto di interesse, ma tutte le situazioni della ricerca clinica, ed è fermo perché? Perché per una cosa più stupidina è il problema del trattamento fiscale degli emolumenti dati a chi partecipa alla ricerca. Abbiamo 27 fischi diversi e come gli uccelli hanno fischi diversi e anche i paesi membri dell'Unione Europea e per questo non si riesce a regolamentare anche per questo la ricerca. Un saluto da Ficcanasa. Grazie. 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 Grazie.